A un certo punto mi guardo intorno, mi arriva la bidella, attenzione, non fate l'errore di chiamarla bidella, si chiama più bidella, collaboratrice scolastica, a me già mi fa antipatia, mi si avvicina e mi fa ma che amori, ma so gemelli, dico sì, son nati allo stesso giorno, beh, dico no, il maschio si è fermato una mesata perché si trovava bene, mi fa ma che nonna giovane che c'hanno sti ragazzini, tacci tua, tacci tua, dopo sta fatica che ho fatto, domani vengo con le chiamatte caduta, morì ammazzata a te.